La prima è che il dibattito sulle politiche sanitarie ha un primo grande limite e difetto e cioè che è finito nell'ambito del lagone politico, di quella discussione politica che è fatta non per andare a sviscerare problemi ma che è fatta di tifoserie e quando un tema finisce in quella discussione politica, non so, io recentemente ho visto un talk show, e da tanto non li vedevo, si capisce poi perché i cittadini non capiscono niente, della politica non condividano, perché oggettivamente ci sono solo posizioni contrapposte che non si parlano urlate l'uno l'altro. Ora quando questo avviene in campagna elettorale, quando questo avviene su temi di scarsa rilevanza, ormai, ahimè, io non lo condivido ma è una caratteristica della politica. Però se questo avviene su un tema come la sanità questo è una questione che ci deve fare interrogare tutti, a meno me sicuramente, nel senso che noi stiamo parlando di un servizio che è un servizio che incide su come vivono i nostri cittadini. Forse uno dei più importanti, l'abbiamo detto tante volte insieme alla scuola, ma quello davvero che dà anche sicurezza, dà certezze, dà fiducia nei confronti del futuro, cosa di cui c'è bisogno in questa fase. Non so se avete visto una recente indagine uscita che diceva che l'80% dei nostri cittadini vede più buio il futuro che ha davanti. La sanità è stata sempre un elemento che dà certezza e sicurezza. Ecco, da questo punto di vista, secondo me dovremmo fare tutti quanti, devo dire che alcuni interventi l'hanno fatto sicuramente oggi in questo Consiglio, ho sentito gli interventi alcuni molto equilibrati. Intanto il tema del finanziamento, io non voglio entrare nelle cifre, però cito un elemento, e cioè se ci sono troppi o pochi finanziamenti, io lo vedrei in relazione agli altri paesi, che è vero è sempre improprio commisurarsi la Francia, la Germania, hanno sistemi diversi. Però questo paese nel 2010 aveva un livello di finanziamento di spesa pubblica per la sanità pro capite di 2.436 euro contro i 2.464 della media europea. Eravamo in linea con i paesi europei. Dal 2010, non dal 2023 o dal 2022, dal 2010 si è aperta una forbice tra la media dei paesi europei e l'Italia che porta oggi a far sì che la media, quindi non la Francia e la Germania, lasciamo stare gli Stati Uniti, ma la media dei paesi europei destina per le politiche sanitarie a 4.128 euro pro capite e l'Italia, dato 2022, ma tanto per avere un raffronto, 3.255. Cioè abbiamo aperto una forbice importante. Ora, perché gli altri paesi europei hanno messo tutte queste risorse in sanità? Perché la sanità, se governata bene, sta sfrontando e deve affrontare sfide come l'innovazione farmaceutica, la robotica, la medicina personalizzata, la riorganizzazione sul territorio, tutta roba che costa e costerà risorse importanti. Allora, questo elemento qui è un elemento, secondo me, alla politica tutta. Ho detto è il 2010 oggi, perché chi dice che è dal governo Meloni dice una cosa impropria. dal 2010 è incominciato questo elemento di distanza del finanziamento. È però una caratteristica ora di questo paese che destina meno risorse alla sanità pubblica. E allora noi ci dobbiamo domandare è o non è patrimonio della politica tutta il dire che ci deve essere uno sforzo condiviso. L'abbiamo fatta male la legge, ci abbiamo messo elementi di populismo in quella del 7,5, può darsi, può darsi. Però il senso è, potremmo condividere che sulla sanità noi non ce la faremo a riprendere i paesi di testa dell'Europa, data la situazione di finanza pubblica, è inutile chiedere una roba del genere, nessun governo riuscirebbe con questa finanza pubblica a arrivare lì. Però dire e condividere che questo percorso va fatto, io penso che questo percorso vada fatto perché l'Italia è in una situazione di gap di risorse per la sanità pubblica rilevante e quindi rispetto alle sfide non in la conservazione di che c'è, che vuol dire arretrare. Conservare che c'è vuol dire arretrare. Lo stesso e in questo io misurerei anche, poi ognuno mantiene la sua giudizio, no? Ho sentito alcuni, la riforma di 2015, errore sulla base di quella, se è perso, può darsi. Noi abbiamo provato in commissione a fare alcune valutazioni, però quando si fa la valutazione, anche qui per onestà intellettuale, sul fatto che la riforma e la creazione di tre aziende, che aveva un pensiero sanitario preciso alla base, non c'entro perché sennò diventerebbe un altro dibattito, abbia prodotto meno effetti positivi sui cittadini, bisognerebbe anche fare questo giudizio a ISO risorse, considerando che non siano cambiate le risorse, perché è evidente, se uno mi paragona un ASL del 2010, quando c'erano risorse pari alla media europea e poi me lo riparagona all'ASL attuale, che hanno questo gap di finanziamento rispetto alla media dell'alta sanità, è evidente che qualcosa è arretrato rispetto al 2010. Mi pare che questo sia, lo dovremmo fare a costanza di risorse per capire se effettivamente c'è o meno. E l'altro elemento condiviso, questo mi pare però che sia stato condiviso anche negli altri passaggi, è questo limite della spesa del personale, che è altro elemento inspiegabile, assolutamente non spiegabile se non con una volontà e a questi punti dovremmo dire non si sa neanche di chi, di affossare la sanità pubblica, perché il limite della spesa del personale, che conoscete non vi sto a ridire, è una roba che è passata da tanti governi e nessuno ci ha messo le mani sopra se non dei piccoli aggiustamenti nell'ultimo governo Draghi, se mi ricordo male. Però c'è ancora e noi, la Toscana, tutti siamo d'accordo a dire, i dipendenti sono aumentati, ma siamo d'accordo nel dire che l'investimento sul personale sanitario, socio sanitario è uno degli investimenti più importanti. Allo stato attuale, l'assessore mi potrà correggere, in realtà quello che la Toscana potrebbe fare è ridurre personale. Payback, questo quadro generale, il payback sui dispositivi farmaceutici è una misura sbagliata, io dico un'opinione personale, è una misura sbagliata ed è una misura sbagliata perché il payback funziona e ha senso sulla spesa farmaceutica, perché i farmaci hanno un prezzo stabilito da un'autorità amministrativa, non c'è una concorrenza nel stabilire quel prezzo di farmaco e allora è corretto che chi fa quel profitto, cioè l'azienda e i farmaceutici, è superato un certo limite, concorrano alla spesa sanitaria, perché è troppo facile fare profitto in un prezzo che è amministrato. Sui dispositivi medici questo non c'è, non c'è il presupposto del payback, però è un'opinione personale, e cioè il fatto che quella roba lì è roba che si compra e si compra sul libero mercato e quindi le imprese già nella determinazione del prezzo ci sono i meccanismi di determinazione del prezzo che c'è su tutti gli altri beni, quindi ci dovrebbe essere anche sui mobili allora, ci dovrebbe essere sull'automobili che comprano, è evidente che mi pare che sia una misura molto dubbia e il fatto che siano stati sollevati tutti questi dubbi anche da un punto di vista giuridico, fa sì che ci deve portare tutti quanti a dire che è evidente che quelle risorse che in parte sono state salvaguardate da altre misure del bilancio statale, sono misure dubbie, sono misure delle quali non c'è una certezza né per l'oggi, per i quali non si possono iscrivere senza il decreto del Ministro, ma neanche per la prospettiva dato che ci sarà un giudizio della Corte Costituzionale e direi che ha fatto bene il Tar perché un fumus di illegittimità costituzionale mi pare che sia onesto intellettualmente riconosce. Allora è evidente però che, e qui vengo alla scelta più difficile che noi facciamo oggi, cioè è evidente che ora il sistema sanitario quelle risorse non ne può considerare come certe, Italia Viva dice facciamo la battaglia, è benissimo, è un credito, è una legge statale, facciamolo, però è temerario anche considerare che sia misure certe, visto che qualcuno ha detto è temerario averle considerate, è temerario considerare, continuare a considerare che su quelle si può basare il bilancio della sanità e quindi mi pare che non ci sia altra scelta, stando così le cose, ora che fare una manovra fiscale che porti nuove risorse che possano permettere di chiudere il bilancio della sanità 2023 e a seguire quello 2024. Mettere le imposte è il momento più complicato perché è una responsabilità amministrativa, io l'ho già fatto nelle mie precedenti, però quando l'ho fatto ho avuto la possibilità di elencare fino all'euro i soldi che il mio comune spendeva e far vedere ai cittadini, alle categorie, ai consiglieri che non c'era neanche un euro in più da usare per chiudere quel bilancio. Oppure l'ho fatto quando c'è stato un'estensione dei servizi a disposizione dei cittadini, per esempio quando abbiamo aperto l'asilo nido, non c'era, c'è, l'abbiamo messo, l'abbiamo concordato e si è aperto. Noi oggi non facciamo questo, noi oggi chiediamo soldi ai cittadini per mantenere, speriamo, i servizi che attualmente abbiamo. Ecco, allora per me, e lo dico personalmente, è un momento di grande dispiacere e difficoltà, perché è una cosa che fino ad ora non ho mai fatto, di chiedere soldi senza dare in cambio con gli altri due elementi che dicevo prima. Ed è qui a me, dispiace, c'è l'assessore che ringrazio, mi dispiace che non ci sia il presidente, queste discussioni, sono d'accordo con l'opposizione che non è accettabile farle in cinque giorni, non è accettabile farle con questi termini e con questo livello di approfondimento, non è corretto farlo senza la presenza della giunta e di chi queste decisioni le fa, ma comunque il presidente del quale ho grande stima e per la stima che ho nel presidente anche voto questa misura, convintamente o meno. Ma è evidente che noi se questo facciamo dobbiamo anche, e lo chiede il presidente che non c'è, garantire un cambio di passo su alcune cose, perché noi se non garantiamo un cambio di passo non siamo credibili rispetto a quei cittadini che ci fermeranno e che ci diranno che gli abbiamo preso, anche fosse un euro solo in più, dalle loro retribuzioni in una fase come questa. E ci sono cose da cambiare, c'è l'assessore, ora io ho visto critiche sul lavoro della commissione, a me fanno piacere le critiche della commissione, perché io non sono uno di quelli che pensa di non sbagliare mai e penso che anzi uno dei miei difetti sia quello talvolta di essere molto, come dire, rispettoso degli altri ruoli che noi andiamo poi ad appoggiare, a sostenere, quindi talvolta può essere vero che non siamo stati particolarmente incisivi, però voglio rivendicare che questa commissione ha avviato e io ho fatto parte anche dell'altra commissione citata precedentemente e che un lavoro del genere non l'ha mai fatto, abbiamo in autonomia, quindi come Consiglio regionale basta e ringrazio tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione, fatto un lavoro di analisi e di preparazione della programmazione sociosanitaria regionale con elementi importanti, fondamentali, e di quegli elementi ci sono alcuni che devono essere attuati, lo dico all'assessore che è qui presente, noi del territorio non ne possiamo più ragionare, perché io riconosco che la delibera che l'assessorato ha fatto di attuazione del DM77 è una delibera ben fatta, ma quando si amministra e chi ha fatto il sindaco lo sa bene, tra i fogli e che succede per la strada c'è un ogliato che talvolta è inaccettabile e allora noi di aver fogli fatti bene non ce ne deve importare più, noi abbiamo la necessità di avere un territorio che c'è e funziona. Io ricito l'esempio della casa di comunità di Vinci dove i medici della casa di comunità di Vinci due anni fa alla presenza dell'assessore, hanno presentato un progetto di costruzione di una casa della comunità piena e vera, costo 12.000 euro e passati due anni in quella casa di comunità quel progetto non c'è nulla, nonostante ci sia un presidente di commissione che ha rotto le scatole fino all'inverosimile. Allora noi, Simone, non è che si può continuare a dire che sul territorio si farà, bisogna farlo. L'innovazione tecnologica io rispetto e ringrazio l'ingegnere Belardinelli perché l'ingegnere Belardinelli è una delle persone più competenti che ci sa ma l'innovazione tecnologica è un elemento di riassetto essenziale di governo dei processi della sanità e non può essere affidato all'ingegnere Belardinelli, è necessario che sia dentro i percorsi di le organizzazioni di tutte le aziende. Il controllo dell'azienda in quell'atto che abbiamo fatto avevamo scritto di fare una cabina di regia in assessorato e controllasse i direttori generali che sono tutti bravi, noi abbiamo la fortuna di avere tutti o quasi veramente delle persone competenti, però devono essere coordinati con forza perché ognuno governa un'azienda e a quel punto di vista non ci basta. E poi le case della salute abbiamo chiesto di fare un passo avanti importante sull'integrazione sociosanitaria individuando quel modello, voglio domandare qual è l'incentivazione di quel modello che ci è stata fatta in questi due anni da quando abbiamo approvato quell'atto. E la prevenzione, noi abbiamo il 45% dei ragazzi da 18 a 24 anni che fa un uso preoccupante e a rischio dell'alcol. Che si fa per questi ragazzi? Che si fa per questa roba che è l'investimento più importante? Ora è evidente che ho detto queste cose, sarebbe ingiusto non riconoscere gli elementi forti che funzionano la sanità e che sono stati ricordati da tutti gli altri interventi, primi per Lea, ospedali di grande eccellenza, una rete oncologica è la prima, ma io lo dico perché chi governa una macchina così importante, cioè noi, io non dico a qualcun altro, cioè noi, deve avere l'orgoglio, la forza e la capacità di farla andare non a cento ma a mille quella macchina e se c'ha tre reti che sono l'eccellenza, bisogna che quell'eccellenza diventi l'eccellenza di tutta la regione anche sugli altri servizi. E allora, e chiudo perché ho preso anche troppo tempo, ho sentito che il Presidente Gianni ha annunciato sulla stampa una task force per l'efficientamento. Bene, siamo contenti, io penso che la Commissione e io presiedo, perché ho visto anche tanti consiglieri che hanno detto ci sono elementi di inefficienza che vanno segnalati, il cambio della governance delle aziende che era altro elemento evidenziato nella risoluzione degli Stati Generali, con elementi diversi, ma avevamo detto spostiamo un po' di governance sul territorio e cambiamo la governance monocratica delle aziende sanitarie. Ecco, io penso che bisogna prevedere, e io mi impegno a fare una commissione il mese, che su questi temi prenda tutte le segnalazioni di chi sono e sono, prendiamo anche quelle degli URP, prendiamo quelle dei consiglieri e proviamo a fare un lavoro di merito che punti a vedere quali sono le criticità e sia di stimolo all'assessorato e alla Giunta per questo cambio di passo che noi oggi dobbiamo ai cittadini toscani ai quali, certo le tasse sono un elemento importante e garantisce UEF, ma comunque prendiamo delle risorse dalle tasche dei cittadini toscani e allora gli dobbiamo un elemento in più di governo della nostra sanità. Ringrazio il Presidente Sostegni, non vedo nessun altro iscritto. Ci sono altri? La parola al collega Fantozzi. Sono stato su invito del mio capogruppo stimolato, in realtà intervengo con un po' di perplessità e intervengo a braccio, chiaramente, perché dopo gli interventi dei colleghi Capecchi, Tozzi e Petrucci diventava un pochino insostenibile cercare di seguire anche gli aspetti più tecnici. Quello che mi ha accompagnato però nella preparazione della serata del bilancio è un rammarico forte nella veste di consigliere d'opposizione, nei confronti soprattutto della figura del nostro Presidente, proprio un rammarico personale per la stima e il rispetto che al di là delle parti comunque si conserva all'interno del lagone della politica. E il rammarico di aver perso, a mio avviso, mentre continuiamo a parlare, me ne accorgo sempre di più, perché anche l'intervento del Presidente Sostegni credo sia la terza edizione di un intervento di vista e corretta alla luce di un dibattito che si infiamma durante le sedute più importanti di questa legislatura, che però io mi domando, ma me lo domando veramente con un rammarico che mi richiama prima che da uomo di destra, da toscano, perché mi domando fino a che punto non si poteva evitare anche questo giro, al di là degli aspetti tecnici che tutte le forze politiche d'opposizione hanno debitamente segnalato e sui quali concordo, di doversi francamente ridurre così, ridurre così nel senso di, da una parte, debilitare il nostro lavoro di opposizione nei modi in cui ci viene anche concesso, al di là delle proteste formali che facciamo in riferimento alle tempistiche strette, che ogni anno, in maniera poi abbastanza anche costruttiva, perché non è mancato l'elemento costruttivo in nessuno degli interventi che mi ha preceduto, di ingollare chiaramente quella che comunque poi nella circolarità di quest'aula è la nostra parte, la parte dell'opposizione. Vi posso certo dire che non so cosa succede a casa degli altri, ma io anche da vecchio sindaco e da vecchio consigliere difficilmente ho trattato l'opposizione in questi termini, cioè diversamente da quelli che sono i ruoli che si svolgono in un consiglio comunale, l'occasione a cui mi riferisco e che mi rammarica tanto nei confronti del Presidente, perché non ho capito, mi piacerebbe che magari potesse ricomparire a un certo punto e spiegarlo, e spiegarlo magari anche ai toscani, perché questa volta non si è voluto cogliere l'occasione di una grandissima disgrazia per casa nostra, che era quella dell'alluvione, dove noi ci siamo comunque trovati a essere costruttivi al di là della dialettica politica e delle parti, ci torno sopra perché si può distinguere il ruolo della parte che si deve giocare e recitare nella rappresentanza che ha questa parte della Toscana, da quella che invece è la connotazione che a un certo punto i nostri doveri sono superiori probabilmente anche al diritto di coloro i quali siamo qui chiamati a rappresentare. E io non credo che avesse grandi difficoltà per i rapporti anche personali ma anche politici che abbiamo col Governatore di poter cercare di con più armonia e anche con un ospito costruttivo diverso da quello che si auspica ogni volta che si parla in aula, no? Lo condivideremo con le opposizioni, lo condivideremo con le opposizioni. Va benissimo. Mi aspettavo che, siccome il mio capogruppo mi faceva il riassunto poco fa di come si svolgeranno i lavori, domani probabilmente i nostri ordini del giorno che hanno comunque costato del sacrificio nel studiare le carte vengono prese e messe da una parte come se fossimo sostanzialmente come se fosse il risultato di lavoro di una classe delle elementari. Questo non è corretto ma al netto che sia possibile farlo perché i numeri della maggioranza sono dall'altra parte dell'aula, quello che mi dispiace costatare è che si è persa l'occasione ancora una volta, si è persa anche in un altro paio di passaggi in questa legislatura, di unire quest'aula sostanzialmente anche di fronte a quelle che sono le difficoltà economiche della sanità, al di là che noi siamo nella legittimazione più totale di dire che appunto la governance per noi è sbagliata e con la fatica che possano fare le forze d'opposizione cercare di tratteggiare e disegnare un'altra governance. Però io credo che sia evidente a tutti che non passi esclusivamente dal lavoro svolto e dal lavoro non svolto il risultato elettorale che ci separerà nel 2025, fatto salvo che poi tutti gli intervalli elettorali che ci sono chiaramente mobilitano in un senso o nell'altro le due parti dell'aula. Quindi sono un po' rammaricato, lui mi diceva intervieni, intervieni, ma io se intervengo ne parlavo anche prima con la emerita Presidente Bugetti che è un elemento anche a volte di uno specchio riflesso della mia coscienza di sinistra, che da qualche parte conservo anche io una parte di sinistra, però è la parte più sociale che mi guida nella conduzione. Almi, lasciamo continuare il collega Fantozzi, ha dato una notizia per i media. Lo dico in un modo che suscita, lo so che suscita ilarità, ma lo faccio anche apposta, ma lo faccio apposta perché francamente non ho capito se a un certo punto il nostro Governatore è andato in tilt su qualcosa o veramente non è riuscito a cogliere l'idea che al di là che noi certamente bramiamo di prendere il posto della maggioranza e di governare la regione toscana nel 2025, non fosse questa l'occasione al di là del clima natalizio di cercare oggettivamente di fare un bilancio un pochino più armonizzato con un bilancio che poi alla fine sia in quello numerico che in quello anche politico sarebbe tornato sui banchi di maggioranza perché se il Governatore avesse sostanzialmente e forse credo che anche la notte possa portare ancora a Consiglio, ci avesse posto nelle condizioni sostanzialmente di lasciarci entrare veramente fra virgolette nel vivo di quella che poteva essere una dinamica costruttiva delle questioni, francamente poi chi porta a casa il risultato è chi sta sui banchi di maggioranza, non sicuramente chi sta sui banchi d'opposizione. Quindi questo lo dico al netto degli interventi che faremo domani, degli ordini del giorno che non verranno letti, saranno noiosi, saranno ripetitivi, saranno come mi riprova la volta e mia collega fatti per cercare di guadagnare consenso, sì, di qua noi lo dobbiamo grattare il consenso, non c'è niente da fare, come in tutte le buone famiglie chi sta sui banchi d'opposizione cerca in qualche modo di dare una rappresentanza, una voce laddove non si arriva e come diceva Capecchi oggi quando siamo andati a vedere dove finivano gli interventi a pioggia chiaramente ci siamo rifatti avanti, nel tentativo anche noi disperato in qualche modo di dare una rappresentanza di necessità, no a coloro a cui le date voi, perché voi non le le date, allora si cerca in qualche modo di veicolarla a noi, ma sempre però in una logica di carattere costruttivo che debitamente riconosce il fatto che di là c'è il numero per governare, dalla parte di qua c'è invece il numero per il momento, per criticarvi nelle forme costruttive qualche volta forse un po' animate, ma è anche un po' diciamo la parte in commedia che svolge l'opposizione e qualche volta no. Però questo è un pensiero che io rivolgo soprattutto al Governatore Gianni perché, ripeto, anche qui si è persa un'occasione grande di fronte a tutti i toscani di testimoniare che quest'Aula qualche volta avrebbe potuto mettere da parte molta, molta diciamo dell'armamentario partitico di appartenenza per fare debitamente quando è il caso di necessità agli interessi collettivi di casa nostra. Ringrazio il collega Fantozzi, la parola al Presidente Nicolai. Grazie Presidente. Il dibattito oggi e penso anche nei prossimi giorni chiaramente riguarderà l'atto che è stato presentato dal Presidente Gianni con l'emendamento e quindi anche gran parte del mio intervento riguarderà questi aspetti anziché una serie di altre questioni che attengono al bilancio su cui ovviamente invece sarebbe opportuno dedicare la giusta attenzione. Però ovviamente c'è un'attualità e l'attualità ovviamente è la discussione che si sta svolgendo e adesso voglio dare un contributo. Parto da una riflessione con lei. Alcune persone mi hanno chiesto come mai abbiamo deciso di fare questo intervento sull'addizionale IRPEF e io a queste persone ho risposto penso anche in modo semplice e chiaro perché da Roma hanno deciso di incendiare la nostra casa che è la sanità pubblica della Toscana e noi dobbiamo spengere questo incendio. Hanno deciso di incendiarla ormai da un anno con una serie di atti che sono chiari. Il primo è stata la manovra del 2023, la ricostruzione del collega sostegni rispetto alla storia del Fondo Sanitario nazionale non fa una piega. Ovviamente c'è un punto di cui molte volte noi non facciamo riferimento è quello della pandemia e di quello che ha comportato nel nostro Paese lo shock della pandemia, la scelta del Ministro Speranza di concludere il suo mandato alla guida del Ministero della Salute con il 7% del prodotto interno lordo che è vincolato alla sanità. Arriva il governo Meloni dopo un mese e mezzo riesce innanzitutto a fare delle previsioni chiare che sono quelle contenute cioè di portarlo in pochi anni sotto la quota del 6,5% quindi portarlo al 6,1% del PIL nel 2026 e riesce, questa è una cosa di cui parliamo poco, a fare un intervento che non si vedeva da anni. Sull'articolo 20 sull'edilizia sanitaria mette sul 2023 0 euro per la prima volta ma non si fermano lì. A luglio del 2024 la grande pensata del PNRR, 30% di taglio alle case della comunità, agli ospedali della comunità e poi è venuto fuori recentemente che avete tagliato anche i posti letto di terapia intensiva che erano stati decisi sempre durante la pandemia, un taglio che va dal 25 al 30%. Quindi due degli elementi della lezione italiana della pandemia, sanità territoriale, aumento delle terapie intensive, nel giro di pochi mesi ci fate un bel taglio del 30%. Arriviamo poi alla manovra 2024, 2,2 miliardi per il rinnovo dei contratti e avendolo messo ovviamente nel fondo sanitario nazionale la regola che ci dà un'altra bella mazzata come sanità toscana. Avete scelto di legare la ripartizione per quote di abitante di queste cifre e quindi la Lombardia che ha il 14% dei dipendenti del sistema sanitario nazionale ma ha il 18% della popolazione dalla vostra manovra avrà un beneficio e quindi gli è stato detto brava hai privatizzato e quindi avrai un vantaggio. Noi che abbiamo l'8% dei dipendenti del sistema sanitario nazionale siccome per residenti siamo poco più del 6% avremo una penalizzazione. Ovviamente non poteva mancare di nuovo sull'articolo 20 0 euro, due anni consecutivi di investimenti sull'edilizia sanitaria in Italia che si fermano al 2022 al mandato del governo Speranza. Quello che è venuto fuori oggi però ha del clamoroso. Il fatto cioè che le regioni italiane debbano contribuire al bilancio dello Stato con un prelievo forzoso di 40 milioni di euro con cui le regioni italiane devono intervenire per dare soldi della spesa corrente al bilancio dello Stato. Lo ha detto oggi il Presidente Gianni è emerso in conferenza della Tassa di Regioni quindi non solo fate quello che fate ma le regioni dovrebbero anche contribuire a dare mano allo Stato. Stiamo a un ribaltamento totale della realtà. Basterebbe già questo per definire che ci avete appiccato un incendio. A questo si aggiunge la vicenda del Pebec con tutta la storia degli stradari di Roma e il Ministero e l'altro. Il governo Draghi l'ha fatto, voi non l'avete fatto, le chiacchiere stanno a zero. Nel 2022 il decreto è stato fatto, nel 2023 non l'avete fatto. Quindi la nostra colpa è quella di avere un sistema territoriale diffuso che ha 100 milioni di euro di extra lea che in Toscana sono stati conquistati negli anni e che ovviamente in questa situazione se ci sommiamo poi anche ovviamente una serie di altri aspetti, ho detto gli extra lea ma potrei dire della rete delle strutture sanitarie territoriali che abbiamo, ci portereste automaticamente nel piano di rientro e quindi a trovarci grazie alle vostre scelte che hanno quella della questione che ho detto della manovra 2024 devo dire molto chiaramente lo dimostra, una penalizzazione per le regioni al sistema pubblico, noi ci portereste al maggio 2024 ad avere blocco addizionale, IRP e FEIRAP al massimo di legge, blocco del turnover dell'assunzione del sistema sanitario fino al dicembre del 2025 perché la legge è chiara, taglio degli extra lea e tutta una serie di tagli ai servizi alle strutture. Noi ve lo dico non abbassiamo la testa di fronte alla vostro accanimento verso la Toscana e abbiamo deciso di reagire con le armi a cui abbiamo a disposizione perché noi non vogliamo che per colpa vostra i cittadini della Toscana debbano rinunciare a una serie di diritti che ormai sono acquisiti, le esenzioni per la scelachia, la questione ad esempio sul trasporto sanitario ordinario, le esenzioni per i disoccupati e cassa integrati, una serie di esenzioni per le malattie rare, l'odontoiatria pubblica, tutta una serie di servizi e potrei continuare perché l'elenco sarebbe lungo, sono 100 milioni di euro che col piano di rientro in cui voi ci mandereste scomparirebbero da un giorno all'altro. Di fronte a uno scenario del genere c'è un dovere prima di tutto morale che è quello di fare tutto quello che è necessario per evitare che non si faccia carne da macello del nostro sistema sanitario e anche dei diritti di cittadinanza che i toscani hanno conquistato nei decenni, grazie alle scelte della regione toscana. Qui si potrebbe dire voi fate questo intervento solo per difendere quello che c'è già. Non è solo questo, lo voglio dire con chiarezza e spero che l'assessore Bezzini intervenga diffusamente su questo punto. Ci sono una serie di interventi che sono in corso e che dal piano di rientro in cui voi ci volete sbattere sarebbero totalmente interrotti. La questione per esempio del progetto Clessidra che aveva messo in campo la giunta regionale rispetto a 100 mila prestazioni su tutta una serie di specialistiche per l'abbattimento delle liste d'attesa. La questione dell'help desk di secondo livello quando ci sono problematiche inerenti il CUP. Gli incentivi per i medici nelle aree disagiate e periferiche. Cari colleghi, venite spesso giustamente a fare le manifestazioni per la mancanza dei medici di famiglia nelle aree disagiate ma da Roma non è arrivata ancora nessuna proposta concreta per fare fronte a questo problema. E così anche in questo caso ci stiamo arrangiando per trovare e finanziare con le nostre risorse meccanismi di incentivi per fare in modo che i cittadini di Sambuca Pistoiesa ad esempio di Marliana, parlo dei comuni della provincia di Pistoia che conosco bene abbiano diritto ad avere l'ambulatorio del medico di famiglia visto che da Roma non arrivano segnali concreti rispetto a questo tema. La questione penso della salute mentale con l'implementazione della legge sullo psicologo di base è un tema che ha posto il Consiglio. Potrei continuare su tutta una serie di interventi sulla sanità territoriale perché le case della salute che voi ci avete tagliato al netto che è il problema che ce l'avete tagliate ci sono anche degli aumenti di costi da coprire per farle e per far partire i cantieri e questi soldi da qualche parte vanno trovati e se andiamo in piano di rientro a rivederci anche a questo. Lo diceva il collega Sostegni, non sono passaggi semplici questi allo stesso tempo penso che abbiamo scelto tra i pochi strumenti che hanno le regioni di fronte agli interventi che sono stati fatti da una manovra finanziaria che è quella che discutevo di avere scelto lo scrumento che almeno un pochino più di equità ce l'ha grazie al fatto che si interviene sugli scaglioni. Certo è che se andassimo in piano di rientro come voi vorreste perché così dicono gli atti che sta assumendo il governo Meloni le addizionali IRPEF andrebbero automaticamente tutte al massimo. Non ci sarebbe discussione. Mentre invece noi mettiamo una salvaguardia per i redditi sotto 28 mila euro cosa che in quell'altro scenario sarebbe impossibile da ammettere. Vi dico la verità, se è detto mettete le mani in tasca ai toscani io penso che le mani in tasca ai toscani e ai cittadini italiani ce le mette chi smantellando il sistema sanitario pubblico costringe i cittadini a rivolgersi alle assicurazioni e a fare arrangiarsi per conto loro. Questa non è la nostra idea. Su questo si misura il confronto e la distanza tra noi e voi. Forse mai su questo tema lo vediamo in modo chiaro. Arretrare il sistema sanitario pubblico significa aprire spazi al privato che occupa quello che ovviamente sul cui il pubblico non è in grado di intervenire. Questa però non è la Toscana. Questa è la Toscana di una terra in cui non ci si arrangia ma in cui c'è il solidarietà. E il sistema sanitario pubblico è l'elemento fondamentale di solidarietà e di coesione sociale del nostro territorio. E noi su questo lo difendiamo e utilizziamo tutte le armi a nostra disposizione quelle che ci vengono date dalla legge perché non vogliamo che chi paga un prezzo più alto da parte di fronte al momento critico che viviamo ne paghi ancora un prezzo ancora più alto tramite un taglio, un venir meno dell'arretramento del sistema sanitario pubblico che in tanti decenni la Toscana ha costruito e che questo sì penso che sia patrimonio di tutti i toscani indipendentemente dal loro colore politico ma c'è un colore politico che oggi qui si assume la responsabilità e il coraggio di difenderlo facendo scelte difficili ma necessarie proprio per assicurare i valori che contraddistinguono da sempre la Toscana. Ringrazio il Presidente Nicolai Ci sono altri colleghi altrimenti do la parola per l'ultimo intervento all'assessore Bezzini La parola al collega Vannucci Grazie Presidente Oggi è una giornata particolare penso per ognuno di noi Io a differenza del collega Sostegni non ho mai votato per un aumento dell'imposizione fiscale anzi mi era capitato di fare il contrario portando l'addizionale IRPEF del Comune di Firenze quando si è doveva in giunta a zero e devo ammettere che la sensazione è ben diversa è pronastico dirlo è superfluo affermarlo ma da un po' a mio modo di vedere la dimensione della scelta che noi assumiamo oggi oggi io non voglio farla lunga è già abbondantemente dopo l'ora di scena e è stato ricostruito in modo sicuramente migliore di quanto saprei fare io da Enrico Sostegni e da Marco Nicolai qual è la posta in palio qual è la posta in gioco a mio modo di vedere e ho avuto modo di confrontarmi anche diciamo in sedi pubbliche con qualche collega dell'opposizione io non ci voglio credere io non credo che in quest'aula ci sia una sola persona che in scienza e coscienza voglia cambiare il DNA al nostro sistema sociosanitario siamo tutti veramente orgogliosi di avere un sistema che va dall'85 al 90% più o meno delle prestazioni erogate direttamente dal pubblico siamo tutti sufficientemente orgogliosi di avere un sistema che non compra servizi ma che eroga servizi io credo che la nostra regione sia tra le regioni che al massimo cerca di dare conseguenzialità a quella che a mio modo di vedere è un principio di democrazia sostanziale la democrazia formale sappiamo benissimo che cos'è ogni tanto si vota c'è una maggioranza c'è un'opposizione la maggioranza cerca di governare al meglio per tornare ad essere maggioranza conquistando il consenso dei cittadini e quello stesso consenso dei cittadini invece è conteso dall'opposizione che cerca la volta dopo questo è un dato a mio modo di vedere formale che è arrivato evidentemente dopo secoli di maturazione dopo secoli di battaglie dopo secoli anche di passi falsi ma a mio modo di vedere la democrazia sostanziale è quella che non ti permette semplicemente di votare ma che ti permette anche di essere assistito e curato nel caso che tu ne abbia bisogno questa è la posta in gioco oggi ve l'ho detto in apertura io sono uno di quelli che aveva la bella abitudine di ridurre le imposte o meglio ridotte una volta e mantenute sempre a zero e questa è francamente una prima volta di aver fatto volentierissimo a me però però lo scenario dipinto da Marco Nicolai Pocanzi è uno scenario che è dietro l'angolo è uno scenario che esiste ed è uno scenario che non arriva da Marte ma è frutto di precise scelte politiche è stato ricostruito bene lo spettro temporale ed è il 2010 ci sono alternate maggioranze di tutti i colori politici non è mai stato levato il tetto al personale e questo è evidentemente un problema che ci chiama in causa non noi personalmente ma tutte le forze politiche alle quali sostanzialmente aderiamo né è stato fatto uno sforzo per mantenersi ai livelli delle medie dei paesi non d'avanguardia appunto delle medie dei paesi del nostro continente detto questo quello che sta succedendo negli ultimi due anni a mio modo di vedere non ha degli incredibili io credo che come ci siano delle specificità territoriali nel centro-sinistra ci siano anche delle specificità territoriali nel centro-destra e che si fa sempre questo ragionamento rispetto agli Stati Uniti d'America dicendo che un democratico del Texas probabilmente è meno libero di un repubblicano del Maine ecco io credo che un esponente politico di centro-destra che vive nella regione toscana e lo vedo anche dalla passione con la quale per esempio il collega Petrucci difende la sanità pubblica in regione toscana sia profondamente diverso da i vostri colleghi di partito che stanno attuando quelle scelte che oggi ci inducono per evitare lo scenario che è dietro l'angolo a fare la scelta che siamo chiamati a fare guardate io non sono geloso dell'essere la parte politica responsabile che si assume la responsabilità scusate il gioco di parole di votare a favore mi farebbe piacere che si fosse in più in di più delle forze della maggioranza del partito democratico perché questa è una partita che ci riguarda tutti è una partita che riguarda ogni donna uomo bambina bambino anziano anziano della nostra regione toscana c'è differenza c'è differenza tra l'assistenza che viene garantita in Toscana e che viene garantita in altre regioni d'Italia basta fare un esempio il percorso nascita come viene trattata una gravidanza in Toscana è diverso da come viene trattata una gravidanza basta andare in Lazio ma anche in Lazio quando governava il partito democratico ecco io francamente sogno che smette il turismo sanitario sogno che in ogni regione d'Italia ci sia il medesimo livello di assistenza ma sogno che questo medesimo livello sia raggiunto non perché c'è qualcuno che mette la retromarcia ma perché c'è qualcun altro che accelera invece noi qui purtroppo oggi dobbiamo fare la scelta che dobbiamo fare per non mettere la retromarcia perché altrimenti questa legislatura sarebbe ricordata come la legislatura della retromarcia e vi ripeto non è un'esclusiva della maggioranza avere a cuore il sistema socio-sanitario della nostra regione non lo è credeteci la nostra regione ha tutti i suoi limiti nella gestione io mi riconosco in alcune delle affermazioni del collega Sostetti l'ho detto anche nell'ironi di gruppo di questi giorni questo è il nostro è un sistema sanitario un sistema socio-sanitario la governance del nostro sistema socio-sanitario è un sistema che o innova o non è la regione toscana è sempre stata all'avanguardia dalle reti oncologiche alla medicina complementare sto parlando evidentemente di cose che sono anche all'antipodi rispetto alla percezione delle persone però è una regione che ha fatto dell'innovazione di sistema dell'innovazione di processo dell'innovazione della presa in carica e della presa in cura uno schema di gioco perenne ecco quello schema va recuperato va potenziato va rilanciato ma per farlo altrimenti sono discorsi oggi occorre assumersi questa responsabilità le braccia sono aperte perché le responsabilità quelle importanti se si condividano si portano meglio perché non c'è colore politico che oggi in quest'Aula non c'è c'è la differenza tra chi crede in un sistema sociosanitario che mantenga l'85% il 90% delle prestazioni erogate dal pubblico e chi invece non vedrebbe come uno scandalo far scendere queste percentuali sono convinto in quest'Aula non ci sia nessuno che vuole vedere scendere queste percentuali non c'è nessuno che sia di Fratelli d'Italia che sia della Lega che sia dei Cinque Stelle che sia dei Partiti Democrati non c'è nessuno è il momento di dimostrare tante volte ci siamo becchettati anche sempre in uno spirito questo è avvenuto soprattutto in Commissione lo dovevo ammettere il percorso degli Stati Generali è un elemento di innovazione va recuperato va dato briglia va data energia però torno lì e quindi dico gli Stati Generali perché è stato un bellissimo momento al di là del voto finale di condivisione di un percorso anche insieme ai consiglieri che sono stati eletti dall'altra parte da quelli che non sostenevano il Presidente che noi sosteniamo però tutto passa da oggi da domani insomma da quando sarà da domani sera non lo so per questo a mio modo di vedere è fondamentale oggi riuscire a riaffermarlo questo principio anche per le future battaglie per le future vertenze dovremmo fare con il governo di qualunque colore esso sia perché non è soltanto questo governo che ha fatto scelte su quota d'accesso anziché su dati reali anche altri precedenti l'hanno fatto e questa è una roba che ci riguarda a tutti vedo il consigliere Fantotti se mi guarda stranito è il discorso degli abitanti rispetto evidentemente ai consumi rispetto evidentemente alle strutture in carico rispetto evidentemente come faceva prima l'esempio Nicolai al personale impiegato ci riguarda tutti avere una Toscana che si assume la responsabilità di prendere e dire ragazzi a noi questo sistema ci sta a cuore noi vogliamo che le regioni intorno a noi raggiungano il nostro livello e noi vogliamo continuare ad essere quelli che buttano sempre la palla più avanti perché rinnoviamo i processi perché è vero servirà a fare una revisione della spesa sicuramente servirà a mettere a punto alcuni meccanismi decisionali sicuramente servirà a dare attuazione ad alcuni punti della risoluzione sicuramente però io sono convinto che tra di qua e di là sono molto più i punti in cui si va d'accordo di quelli in cui non si va d'accordo e che su questa avvertenza con il governo nazionale io avrei detto le stesse cose se il governo fosse stato il mio o uno dei miei o comunque sia con i miei tra virgolette socio di maggioranza o di minoranza è un qualcosa che riguarda la Toscana mettiamo via le bandiere mettiamo via le appartenenze e assumiamoci il peso delle scelte necessarie assumiamoci il peso del voler garantire ma anche l'onore da un certo punto di vista di voler garantire il continuare a funzionare di un sistema pubblico con servizi erogati dal pubblico senza demonizzare evidentemente altri tipi di servizi ma facendo ben chiaro facendo ben presente che al di là di tutto la regione toscana marcia come un solo uomo o una sola donna a difesa del diritto di garantire a tutte le toscane e ai toscani le migliori cure con un sistema pubblico e universalistico grazie grazie ringrazio il collega il collega Vannucci inizia ad avere esserci un po' di stanchezza a questo punto direi che davvero non c'è più nessun altro iscritto do la parola all'assessore Bezzini ricordo che al termine dell'intervento dell'assessore Bezzini sarà conclusa la sessione serale del bilancio domattina ci sarà la discussione e gli interventi solo dei capigruppo e del portavoce dell'opposizione lo ripeto perché domattina non vengano altri a voler intervenire l'orario è fissato per le 9.30 io spero che siate puntuali io sarò qui prego assessore Bezzini sì grazie grazie presidente ma io non vi è umbra di dubbio insomma è già stato detto dal presidente Gianni da tanti consiglieri che siamo di fronte a un passaggio che ha una sua complessità e non lo dico tanto per quanto mi riguarda perché consideri la questione fiscale come un male assoluto la questione fiscale è un elemento costitutivo della relazione tra istituzioni e cittadini però sono consapevole della delicatezza e della grande attenzione con cui l'uso della leva fiscale deve essere gestito per tante ragioni per la fase economica e sociale che stiamo attraversando anche per le criticità che attengono il rapporto di fiducia in generale tra cittadini ed istituzioni e quindi non mi sfugge per nulla la complessità il rilievo e la delicatezza di questo passaggio e però come è stato ben detto in alcuni degli interventi che mi hanno preceduto bisogna aver chiara quella che è la posta in gioco di questa vicenda e della decisione che segue questa vicenda proverò ad avvicinarmi a questo tema della posta in gioco però provando a dare anche qualche elemento di ulteriore delucidazione sulla vicenda del payback allora la vicenda del payback mette la sua prima radice normativa nel 2011 nel 2011 viene previsto per la prima volta dell'ordinamento giuridico del nostro paese il tetto alla spesa per i dispositivi medici la razza è quella di calmierare e di evitare fenomeni speculativi in quella che dopo la spesa per il personale la spesa farmaceutica è uno dei filoni di costo più rilevanti della spesa sanitaria e quindi della spesa pubblica del nostro paese attenzione era il 2011 vi ricorderete anche collocatelo diciamo nel contesto storico di quel momento nel 2015 viene associato al tetto di spesa per i dispositivi medici nell'ambito della legge di stabilità di quell'annualità il meccanismo del payback poi c'è una fase dove questa norma viene sostanzialmente messa in sonno diventa dormiente e qui io lo dico chiaramente c'è una responsabilità trasversale anche agli schieramenti politici perché dal 2015 ad oggi io credo di poter dire che si siano avvicendati diciamo governi di tutte le matrici politiche questa norma viene in qualche modo risvegliata ed è una norma una legge dello stato e le leggi dello stato in qualche modo si applicano attenzione qui non c'è nessuna iniziativa estemporanea della regione toscana la regione toscana ha attuato pedissequamente la norma dello stato viene risvegliata nell'estate del 2022 attenzione su iniziativa con decreto del ministero della salute sentito il ministero delle finanze dico questo perché sentivo nel dibattito del pomeriggio qualche riflessione sul ministro a cui ci si doveva rivolgere il ministro titolare dell'iniziativa su questa materia è il ministro della salute d'intesa con il ministro delle finanze decreto 6 luglio 2022 ministro speranza d'intesa con il ministro franco quel decreto certifica lo sforamento dei tetti alla spesa degli dispositivi medici tra il 2015 e il 2018 e ripartisce lo sforamento tra le regioni 9 agosto 2022 con decreto legge il governo Draghi con norma scritta dal ministero della salute ne ho cognizione di causa perché conosco parecchio bene quel passaggio e il ministero delle finanze inserisce in quel decreto un articolo che consente sulla base del decreto ministeriale del 6 di luglio del riparto adesso collegato di poter iscrivere a bilancio le somme spettanti alle regioni e definisce il percorso il crono programma e gli atti conseguenti che le regioni dovevano mettere in atto questo diciamo è avvenuto le regioni tutte hanno messo in campo gli atti conseguenti alle norme dello dello Stato si è aperto un contenzioso diciamo nei tribunali amministrativi che ha avuto anche alcuni sbocchi diciamo in queste ultime settimane che venivano ricordati diciamo anche dall'intervento del collega Sostegno il punto è che questa norma poteva essere replicata punto numero uno del resto c'è una norma madre del 2015 che è attualmente in vigore che 2011 il tetto consigliere mi faccia parlare poi dopo mi fa le domande diciamo interloquiamo 2011 viene previsto per la prima volta il tetto e nel 2015 viene associato al tetto il meccanismo del payback il quindi diciamo il poteva essere replicata questa norma non è stato fatto attenzione poteva essere fatta anche un'altra cosa perché a me non sfugge lo dico perché non sono avvezzo diciamo alla demagogia agli approcci approssimativi diciamo alle materie anche con finalità di propaganda in realtà la cosa più importante che poteva essere fatta e non si è fatta anche alla luce del contenzioso e degli elementi di fragilità che anche il collega sostegni in qualche modo individuava nell'origine diciamo fin dall'origine di quella norma era lavorare a un possibile terreno di intesa tra il governo le regioni e le imprese e qual era il possibile terreno di intesa replicare quanto attenzione non vi stupite ma i giudizi devono essere oggettivi quanto aveva fatto con uno dei suoi primi atti il governo Melone stanziando un miliardo per agevolare diciamo le imprese dei dispositivi medici che oggettivamente si sono trovati attenzione si sono trovati si sono trovati poteva essere fatto no ma io guardo va bene va bene allora replicare quel passaggio che da una parte si faceva carico diciamo di un peso importante sul mondo dell'impresa avrebbe consentito e ve lo dico anche sulla base di tante interlocuzioni informali avuti con ambienti governativi con ambienti o meglio ministeriali con ambienti del mondo dell'impresa avrebbe consentito diciamo di replicare quel tipo di operazione per l'annualità 2018-2022 di costruire la seguente operazione il governo agevolava diciamo con alcuni stanziamenti come aveva già fatto diciamo le imprese nell'adempiere alla normativa del 2015 le regioni potevano anch'esse fare qualche passo nella direzione di agevolare questo percorso presidente Gianni ieri ha detto che si poteva anche gradualizzare spalmare in un arco più lennale diciamo l'incasso di quelle risorse e si stava anche ragionando su alcune misure di mitigazione per le piccole imprese ad esempio lo stralcio dei piccoli crediti sostanzialmente in questo modo si sarebbe potuto trovare una sintesi tra governo regioni e imprese che avrebbe si sarebbe conclusa con la revisione del meccanismo del tetto di spesa dispositivi e del payback immaginando e c'è un lavoro in parte già istruito da alcuni professionisti ed esperti della materia un nuovo sistema per il futuro alla luce anche delle criticità che si sono riscontrate in questi anni ad esempio immaginando anche la costruzione di un meccanismo che differenziasse da tipologie di dispositivi in relazione a quanto anche il presidente sostegni prima diceva e individuasse un soggetto come avviene nell'ambito del payback dei farmaci dove dopo anni anche di contenzioso si è trovato un certo equilibrio immaginando che ci fosse un soggetto che svolgesse la stessa funzione che per i farmaci svolge diciamo AIFA si ragionava di Agenas diciamo non sono segreti perché la stampa specializzata in qualche modo ne ha parlato dei mesi scorsi perché ho fatto tutta questa lungagnata rispetto a una materia delicatissima perché è una componente fondamentale della vicenda di questi giorni è una componente fondamentale della sostenibilità dei sistemi dei sistemi sanitari tutti compreso quello del nostro paese e delle diverse regioni perché quello che è mancato e lo dico senza polemica è una regia da parte del governo che portasse a compimento questo ragionamento e il presidente è arrivato diciamo tutti noi la giunta fino a questo punto anche perché in tante interlocuzioni informali che hanno accompagnato l'estate e l'autunno ci veniva detto che il punto con cui in cui traghettare un'eventuale intesa perché qualche risorsa andava mobilitata non era solo un tema di regole era per l'appunto sarebbe stato per l'appunto lo strumento della legge di bilancio perché non vi erano altri veicoli normativi capienti per in qualche modo concretizzare l'operazione a cui prima facevo riferimento guardate questo è un tema che riguarderà anche i prossimi mesi perché per quanto mi concerne diciamo e ci concerne la vicenda del payback non è una vicenda chiusa esiste ancora una legge dello Stato che tra il 19 e il 22 per questa regione farebbe maturare un dovuto in termini finanziari di circa 420 milioni la stima nostra ovviamente ecco attenzione a proposito del soggetto che ha il potere di iniziativa da qualche settimana nei primi giorni di dicembre il ministero della salute ha iniziato la ricognizione dando come data l'8 dicembre per la ricognizione diciamo della spesa del 2019 e l'8 di gennaio per il 2021 un mese in più perché ovviamente il 2021 sono annualità che contemplano anche la vicenda covid dove bisogna quindi separare i dispositivi covid da quelli per l'attività ordinaria perché la norma questo prevede quindi il tema si pone non è un caso lo stesso ministero non è proprio nemmeno tutto fermo in tal senso ha avviato in queste settimane la ricognizione ha chiesto alle regioni le regioni stanno mandando tutti i dati perché il tema finché la legge c'è prima o poi dovrà trovare uno sviluppo diciamo salvo che non arrivi una sentenza della corte costituzionale lì si aprirebbero altri scenari che chiamerebbero comunque guardate in causa la responsabilità dello Stato rispetto alle regioni ai soggetti che in qualche modo dovevano lo dico in parole povere non in termini troppo raffinati aver qualcosa diciamo dallo sviluppo di quella vicenda perché si incastonano elementi anche di natura giuridica particolarmente rilevanti quindi questa è un'iniziativa è un tema sulla quale l'iniziativa di tutte le regioni andrà avanti aggiungo e chiudo questa parte che nella penultima commissione salute 15 giorni fa tutte le regioni tutti gli assessori tutti centrodestra e centrosinistra hanno scritto ai ministri Schillaci e Giorgetti per porre il tema della chiarezza rispetto alla questione del payback dispositivi medici per porre il tema delle risorse di bilancio 2023 perché c'era stata qualche dichiarazione che prefigurava anche qualche stanziamento il ministro stesso su Repubblica se non vado errato parlava di 3-4 miliardi subito insomma e in realtà questi non sono arrivati terzo punto lo ricordava il collega Nicolai la necessità di avere un po' di chiarezza sulla questione del futuro della missione 6 del PNRR perché noi abbiamo centrato il 100% degli obiettivi al 30 settembre sul target diciamo definito dall'intese governo Unione Europea a quella data leggiamo dai media che l'Europa avrebbe recepito l'istanza di rimodulazione dal governo sulla quale non entro che ricordava bene il collega Nicolai ma noi non abbiamo avuto nessuna comunicazione formale attenzione noi abbiamo contratti firmati cantieri che stanno per partire diciamo in oltre 100 realtà della Toscana diciamo nelle prossime settimane questo vale per noi e vale anche per le altre regioni del paese sulla base attenzione del contratto istituzionale di sviluppo e quindi di un atto formale siglato e mai messo in discussione nonostante queste interlocuzioni tra le regioni e il governo questo diciamo è l'istanza di chiarimento che tutte le regioni hanno segnalato al governo diciamo 15 giorni fa payback dispositivi bilancio e futuro della missione 6 del PNRR la posta in gioco allora se il punto è usare queste risorse e considerare queste risorse diciamo come elemento per trovare l'equilibrio di bilancio 2023 io vi dico ovviamente condividendo l'iniziativa del presidente diciamo e tanti interventi che si sono susseguiti che il rischio sarebbe troppo alto troppo alto perché noi a questo punto dopo non aver avuto le risposte dopo che anche la commissione salute 15 giorni fa ha posto collegialmente un'istanza senza aver risposta noi dobbiamo cercare di arrivare all'equilibrio economico e finanziario affinché diciamo il sistema sanitario toscano diciamo tenga rispetto agli scenari che si produrrebbero nel caso questo equilibrio non ci fosse attenzione la posta in gioco non è solo un problema di tecnica di bilancio chiaro che c'è un tema il 30 aprile il 31 maggio la diffida quello che la legge credo tutti voi abbiate guardato il quadro quindi non c'entro tema è di politica sanitaria è se noi vi diciamo vogliamo a questo punto assecondare con il rischio a cui prima facevo riferimento una ritirata del sistema pubblico della nostra regione lo dico molto chiaramente laicamente altre regioni negli anni passati questa strada comunque l'hanno intrapresa guardate i dati diciamo che ci sono nel rapporto tra pubblico e privato nelle diverse regioni vedrete che ci sono differenze significative noi con tutti i nostri difetti evidenziati anche nel dibattito dall'opposizione ma anche da alcune sottolineature della maggioranza siamo probabilmente tra le grandi regioni quella che ancora mantiene il carattere a più forte impronta pubblica quindi da una parte diciamo c'è la via della regressione rispetto al perimetro pubblico e dell'avvio verso modelli che investono di più nel contributo del privato nell'acquisto di prestazioni dal privato o nella delega diciamo al privato perché insomma poi il privato può articolarsi in diverse modalità diciamo il privato accreditato convenzionato e le forme di privato furo anche esse diverse insomma diciamo nella loro relazione con i bisogni sanitari quindi da una parte la ritirata del sistema pubblico dall'altra diciamo la salvaguardia del sistema pubblico e tendenzialmente universalistico della Toscana guardate non è solo un tema di principi è un tema che come è stato ben detto potrebbe avere conseguenze molto pratiche e concrete non le riprendo diversi consiglieri le hanno evidenziate diciamo no se lo scenario diciamo della imposizione fiscale al massimo per tutti lo scenario diciamo del venir meno di tutte le spese non obbligatorie che sono un tratto fondamentale dei servizi sanitari e sociosanitari di questa regione mi verrebbe da dire quasi costitutivo quasi costitutivo trasporto sanitario screening neonatali esenzioni per patologie importanti con le malattie rari esenzioni per condizioni sociali come disoccupati cassi integrati emessi in mobilità e non ci ritorno blocco del turnove e ovviamente taglie e chiusure per assecondare un piano di rientro basta leggere diciamo guardate non andate a cercare i piani di rientro e le regioni che sono andate anche versi commissariamente guardate quelli della Liguria e del Piemonte diciamo che hanno sistemi diciamo il Piemonte c'è stato sette anni la Liguria tre sistemi diciamo un po' più vicini a quello come il nostro quindi io credo che la scelta che mi auguro questo consiglio compia diciamo nelle prossime ore va nella direzione della salvaguardia del sistema pubblico universalistico della tutela delle fasce più deboli della popolazione della tutela dei malati perché se ci fosse l'altro scenario attenzione non ci sarebbe solo una condizione quella a cui prima facevo riferimento ma il venir meno di alcune prestazioni o esenzioni farebbe sì che dal prossimo giugno molti malati dovrebbero pagare ciò che oggi in questa regione non pagano e che invece in tante altre regioni pagano quindi questo diciamo è uno dei punti a mio avviso dirimenti rispetto alla scelta che in qualche modo deve essere compiuta non mi sottraggo anche ad altri elementi che ogni tanto sento diciamo volgo l'occasione perdonatemi se la faccio un po' troppo lunga però insomma il passaggio è importante merita attenzione e considerazione verso questa questa aula insomma e verso l'organismo diciamo assolutamente rilevante rappresentato dal consiglio regionale qualcuno di voi potrebbe dire sì bene ma come mai voi avete tremendamente bisogno diciamo di questa partita e altre regioni non ce l'hanno o altre regioni ce l'hanno meno vediamo ce lo potrei poi vedremo nelle prossime settimane non voglio svelare diciamo ovviamente c'è un tema anche di correttezza dei rapporti istituzionali che sono buoni anche con colleghi di altre realtà indipendentemente dal colore politico e non voglio certo rivelare cose che riguardano altre realtà insomma ci sono altre realtà tra l'altro con sistemi molto simili a forte impronta pubblica e vivono momenti di grande difficoltà e li vivranno in modo irrilevante anche nelle prossime settimane di tutti i colori di tutti i colori politici però noi abbiamo un tema e il tema è il presidente lo ha detto in diverse occasioni che noi per garantire i livelli essenziali di assistenza seconda regione in Italia con tutti i difetti e il pacchetto di extra lea che abbiamo spendiamo di più di quello che arriva dal fondo sanitario nazionale guardate quello che ha scritto il quotidiano sanità ieri prendendo a riferimento il rapporto della ragioneria generale dello Stato dell'ultimo decennio è un indicatore un po' balordo non guardatelo nel dettaglio perché fa riferimento al quarto CE però il tratto di fondo lo si evidenzia per ogni regione quarto CE perché balordo perché a secondo di quando metti soldi per il ripiano se le metti prima del quarto CE non ti risulta una condizione di squilibrio se le metti dopo al quarto CE prima del 30 di aprile emerge lo squilibrio nel quarto CE quindi qui c'è un tema di tempistica nell'allocazione delle risorse di ripiano che a volte fa emergere a volte no diciamo lo squilibrio in quel tipo di rilevazione che ha fatto la ragioneria generale dello Stato noi abbiamo quindi un problema di fondo che era abbastanza contenuto prima della pandemia e quindi gestibile diciamo senza passaggi particolarmente significativi sul piano bilancistico e contabile è diventato più complesso diciamo dopo la pandemia con un delta che è cresciuto le ragioni sono state anche dette anche qui dai colleghi le campagne diciamo che abbiamo fatto anche di grande valore che questa regione ha fatto durante la fase della pandemia i costi rimborsati anche dal precedente governo per una parte in quota di accesso diciamo e non per spesa per spesa effettiva gli interventi che abbiamo fatto per cominciare a contenere dal 2021 non vi voglio portare lontano guardatevi i dati sul personale i dati di AIFA sulla farmaceutica vanificati però dal rimbalzo determinato dalla dinamica inflattiva ed in particolar modo dai costi dell'energia diciamo che ha per una parte rilevante vanificato uno sforzo in termini di raffreddamento dei costi che se guardate i dati emerge anche da alcune evidenze noi abbiamo avuto circa il 10% di aumento dei costi dell'energia del paese quando in quota di accesso siamo il 6 perché come dice il presidente abbiamo 800 strutture abbiamo un sistema più pubblico e ovviamente nei sistemi pubblici questo capita anche per l'Emilia la bolletta ovviamente va in capo direttamente ai soggetti gestori diciamo che sono le realtà pubbliche diciamo della nostra regione non c'è una possibilità di spalmare o scaricare sulle strutture private o sul privato cittadino come avviene in realtà che hanno caratteristiche diverse quindi questo elemento ha creato sicuramente un fattore diciamo di difficoltà un delta particolarmente significativo che richiederebbe per la quadratura dei bilanci la possibilità di poter replicare quella misura a cui facevo riferimento di scegliere la strada che il consiglio sta discutendo diciamo in queste ore attenzione ci sono anche altri fattori che vorrei evidenziare ritorno su un punto molto importante a cui prima ho fatto riferimento il carattere pubblico del nostro sistema noi incrociamo mediamente 15-20 punti in più con tutti i problemi che ci sono sulle liste attesa perché il toscano si rivolge in primo luogo al sistema pubblico 15-20 punti in più della domanda di prestazioni nel sistema pubblico di quanto lo facciano regioni benchmark del nostro paese noi abbiamo una relazione tra nel numero delle prestazioni che vengono incrociate dal pubblico nell'ambito pubblico tra erogazione pubblica pubblica cioè delle asle privato convenzionato che è 9 a 1 regioni benchmark come l'Emilia e il Veneto hanno un rapporto diciamo 8 a 2 o 7 a 3 questo dall'idea di un sistema pubblico che è più esteso ed essendo anche più esteso quindi per prestazioni qualità e quantità vedi LEA extra LEA prestazioni aggiuntive e capacità di dare risposte con tutte le difficoltà ma nel pubblico più di altre regioni ma questi sono i dati e i dati non della regione ci sono dati di Agenas del ministero che confermano in qualche modo quello che sta avvicendo ovviamente determina un volume di attività superiore ricordatevi che Agenas a un certo punto certificò che l'unica regione che aumentava le prestazioni sul 2019 era la regione toscana e i volumi si pagano visite diagnostiche in più se vuoi contenere le liste d'attesa non è che vengono gratuitamente che tu le faccia con il tuo personale o che tu le acquisti diciamo dal privato dal privato convenzionato quindi qui c'è una questione insomma no che io vi ho segnalato diciamo non solo in questa sede in questo momento lo stesso presidente e così via con grande trasparenza cosa servirebbe e mi avvio a concludere primo ovviamente la la soluzione diciamo di vicende come quella del payback dispositivi la soluzione di vicende come quella in questo caso ancora più clamorosa anche se meno rilevante dei crediti che il ministero del lavoro deve versare al sistema sanitario nazionale per l'immersione dei lavoratori irregolari sono 6-700 milioni per tutte le regioni ancora da riscuotere 40 milioni per la regione toscana la definizione non solo sottoscrivo quanto detto su 7-5% la convergenza verso la media europea non ci torno ma anche la modifica di elementi di qualitativi di allocazione delle risorse guardate questo tema dell'allocazione quota pro capite è un tema che penalizza i sistemi pubblici e avvantaggia quelli più privati vi cito un altro esempio nel 2018 governo giallo verde per cronaca è stato modificato il criterio di redistribuzione del payback dei farmaci superando quello dello sfioramento effettivo dei tetti di spesa sostituendolo anche qui con la riallocazione delle risorse del payback pro quota sulla base della popolazione o della quota di accesso diciamo al fondo sanitario nazionale ci sono regioni che ci hanno guadagnato ora perdonatemi ma insomma sbaglio di poco la Lombardia circa 200 milioni di euro l'anno la regione toscana dal 2018 ci ha perso 40 milioni di euro l'anno 200 milioni in 5 anni semplicemente per il cambio di un criterio che il Parlamento fece diciamo sulla finanziaria 2018 e che ha prodotto diciamo una riallocazione di risorse insomma le cose che dicevano poi anche con Lega Nicolai sui contratti ci sono una serie di elementi che in questo paese stanno andando non da ora ma anche ora vedi l'allocazione diciamo del rinnovo contrattuale del tuo fondo nazionale che serve per i servizi su impostazioni che favoriscono certi sistemi e ne penalizzano e mortificano altri come quello della nostra della nostra regione no questa è ultima insomma ce ne sono varie diciamo e anche un po' trasversali questo è un tema l'altro tema è che noi siamo disponibili la regione toscana e tutte le regioni a intavolare un confronto su alcuni nodi di fondo che riguardano il futuro e la sostenibilità dei sistemi sanitari cito la grande questione dell'appropriatezza perché noi stiamo assistendo diciamo dopo la pandemia a una crescita delle prescrizioni vi faccio due esempi visite più 20% rispetto al 2019 diagnostica più 30% che chiaramente mette a dura prova tutti i sistemi sanitari ecco questo lo dico in maniera chiara ed è chiaro che poi un sistema sanitario che incrocia più nel pubblico poi fatica più nel pubblico rispetto a quello dove magari c'è una quota di cittadini maggiore che se li compra da sé diciamo sul mercato privato noi saremmo disponibili abbiamo letto anche interviste di apertura del ministro saremmo disponibili a fare un tavolo governo regione professionisti perché qui c'è un tema anche di rilievo clinico estremamente delicato per definire linee condivise da tutti gli attori sul tema dell'appropriatezza prescrittiva su questo ci sono le disponibilità della conferenza delle regioni sul tavolo del governo perché sappiamo bene che oltre a chiedere risorse dobbiamo produrre elementi di innovazione di sistema affrontando in maniera chiara senza girarci attorno anche i nodi critici che i sistemi sanitari hanno così come non mi sfugge tema che diversi interventi diciamo hanno evidenziato rispetto all'esigenza diciamo di uno scatto ulteriore sui temi dell'innovazione attuazione delibera 1508 noi ora dobbiamo insomma la dico 116 117 da attuare nei prossimi nel primo semestre del prossimo anno entrata in operatività delle COT al netto dei punti interrogativi diciamo sulla missione 6 del PNRR perché poi noi facciamo i conti anche con questo livello di incertezza perché noi apriamo le COT ma non sappiamo se le COT sono ancora nel piano nazionale di ripresa e resilienza alla missione 6 modello organizzativo diciamo delle case di comunità e apertura progressiva diciamo secondo gli standard delle case di comunità collega Nicolai ricordava alcune misure di cui abbiamo accennato anche in questi giorni diciamo nelle aziende stanno andando a regime gli help desk di secondo livello che dovrebbero aiutare il cittadino nella relazione tra domanda e offerta di prestazioni smussando anche alcuni elementi di tensione che spesso si generano nel cittadino quando esso ricerca diciamo la prestazione attraverso i diversi canali che il sistema mette a disposizione il progetto che le SIDRA dovrebbe consentire insomma abbiamo fatto una riunione ieri mattina di mettere in campo una mole di prestazioni aggiuntive che si dovrebbe aggirare attorno alle 100.000 prestazioni da mettere in più in campo nel 2024 senza trascurare la grande questione dell'appropriatezza perché altrimenti rischia di essere una rincorsa una rincorsa diciamo infinita do un'informazione al consigliere Petrucci noi l'anno scorso siamo stati una delle prime regioni come uso della non delle risorse dell'autorizzazione a spendo in deroga le risorse per liste d'attesa sopra il 90% una delle prime credo ce ne siano due o tre che sono su questo livello quest'anno abbiamo già superato il 100% e quindi bisogna fermarsi diciamo in queste settimane perché in attesa della nuova autorizzazione prevista anche in modo leggermente maggiorato dentro diciamo l'articolo che tratta di sanità nella legge di stabilità il stiamo lavorando a un'intesa con la medicina generale vorremmo anche aprirla diciamo ai pediatri libera scelta per le aree disagiate e potrei continuare ma non la voglio fare diciamo troppo lunga sottolineando come c'è assoluta consapevolezza della necessità di accompagnare gli elementi di iniziativa e di relazione tra regioni e governo sulle materie a cui facevo riferimento le quadrature di bilancio la tenuta del sistema co elementi diciamo che diano il senso anche di un sistema che non solo si difende ma continua in qualche modo come diceva anche il collega Vannucci diciamo ad innovare e su questo ecco vi assicuro la piena disponibilità all'aula alla commissione guidata da Enrico Sistegni diciamo a interloquire sulle questioni concrete con assoluto spirito ovviamente collaborativo e costruttivo nel senso della progressione del sistema diciamo perché credo davvero e lo ribadisco che noi dobbiamo esprimere una coerenza massima e non solo a parole in quella che è la tutela del carattere pubblico universalistico del nostro sistema sanitario e fare scelte con grande coerenza che vadano in questa direzione grazie ringrazio ringrazio l'assessore Bezzini la seduta è conclusa ripartiremo ripartiremo domani alle ore 9 e 30 chiedo soprattutto ai capigruppo chiedo ai capigruppo la massima puntualità in modo tale da poter partire con i loro interventi e ai colleghi di essere presenti per garantire il numero legale buonanotte a domattina